E' passato ieri sera in Consiglio Comunale a Gela il rendiconto 2015, la Sisa Civica ha ricevuto rassicurazioni sia dalla Giunta sia dai dirigenti, oltre all'atto regionale che certifica l'accordo concluso tra Comune e Atoc L2 sul maxidebito da più di 13 milioni di euro. L'assessore comunale al bilancio, Fabrizio Morello, lo ha ritenuto un atto storico. Per la prima volta, ha detto l'esponente della Giunta messinese, si sono certificati debiti e crediti dell'ente e c'è un effettivo riscontro alle segnalazioni che in più di un'occasione sono arrivate dalla Corte dei Conti. E' stato possibile un allineamento che evita rischi per le casse del municipio. Rispetto ai debiti da coprire con Gelas e Atoc L2, ha detto ancora Morello, siamo riusciti a raggiungere un'intesa complessiva che riguarda somme per ben oltre 14 milioni di euro, grazie anche al Consiglio che ha approvato l'atto. Per la prima volta questo Comune riesce ad inserire, dopo decenni, quella che è rappresentare quella che è una situazione reale, perché finalmente riusciamo a riconciliare quelli che sono i debiti, soprattutto con le partecipate, e sono debiti che siamo riusciti a stratificare in un trentennio. Questo per evitare di drenare immediatamente risorse. Dall'altra parte allontaniamo quello che oggettivamente, perché non deve nascondersi, un rischio di dissesto, di default dell'ente, stratificando le operazioni in un trentennio. Quindi soprattutto la partita relativa al lato CL2, che grossomodo incide intorno a 14 milioni di euro, è un'operazione che noi stratifichiamo in 30 anni, con quelle che sarebbero state comunque inevitabilmente spese che l'ente avrebbe affrontato attraverso il posto morta. Da questa copertura finanziaria noi comunque garantiamo l'ente sul piano di quello che può essere un eventuale default del sesto e dall'altra parte consentiamo di avere maggiori risorse per affrontare il quotidiano di quest'ente. Ai nostri microfoni il sindaco Domenico Messinese. Un passo per il superamento della grande quantità di debiti che abbiamo trovato e che stiamo affrontando in vario modo, facendo, attingendo alle scorte di cassa, ma soprattutto azioni come quella di ieri, di programmare un debito non indifferente di 14 milioni di euro con un pagamento dilazionato andando a prendere di fatto la gestione del posto mortame della discarica di Timpazzo. Questo significa dilazionare il debito in 30 anni, quindi verrà più facile pagarlo, ma soprattutto significa anche prendere la responsabilità della gestione della discarica, quindi il fatto di tutelare il nostro territorio perché il comune in prima persona entra nella gestione del posto mortame della discarica, ma soprattutto ieri, essendo una programmazione pluriannale, si è preso il consiglio comunale, ha condiviso questa scelta.